Se nel bombardamento di Hamburgo sono uccise 45.000 persone in poche ore, Bologna avrà non più di 2.500 morti in cinque anni di guerra. Questo dovrebbe dare già l'idea della differenza. Bologna non è Dresda, Bologna non è Colonia, Bologna non è nemmeno Tokyo, che ha avuto 98.000 morti in una notte con un bombardamento con armi convenzionali, ma lì l'obiettivo era fiaccare la popolazione del paese nemico. Bologna quindi ha avuto un numero relativamente basso di morti, naturalmente nella contabilità della seconda guerra mondiale, questo non vuole affatto dire che siano pochi, sono comunque vittime. La seconda considerazione da fare è lo stile dell'azione militare alleata. Esiste una grande differenza tra i bombardamenti inglesi e i bombardamenti statunitensi. Gli statunitensi bombardano da alta quota, 6-8.000 metri di giorno. Gli inglesi bombardano da quota bassissima, anche 400 metri di notte. Per gli inglesi è quasi una sfida personale, una fortissima combattività. Per gli americani è un fatto tecnico. Bologna viene bombardata quindi con scopi infrastrutturali e dagli americani. anni. Viene bombardata a partire in maniera sistematica dall'estate 1943. Prima non era facilmente possibile bombardare l'Italia centrale e non era utile. Non era possibile perché non era ancora disponibile l'Africa. I bombardieri che arrivano su Bologna partono dalla Tunisia e poi col procedere della guerra partiranno dalla Campania o dalla Puglia. Gli americani hanno l'obiettivo di colpire su Bologna la stazione, lo scalo ferroviario di Santa Viola e i trasformatori, la centrale elettrica di Santa Viola. Quindi parliamo di Bologna Nord-Ovest. La linea d'attacco prevede che i bombardieri puntino sul centro di Bologna a partire da Crevalcore e il bombardamento avviene da alta quota. È evidente ciò che accade. Se la bomba viene scanciata anche con un leggero ritardo finisce sul centro storico a partire appunto dal quartiere Lame. Questo è il motivo per cui la parte più bombardata di Bologna è il quartiere Lame. È la zona compresa tra Via del Fratello, Via Lame e Via Marconi. È di gran lunga la più distrutta. Qualche errore ulteriore porta ad alcune bombe sul centro storico. Alcune. Il centro storico non è mai stato bombardato in modo sistematico né in modo deliberato. Abbiamo quindi delle bombe che procedendo su questa direttrice distruggono in buona parte la chiesa di San Francesco, distruggono una parte della casa di Marconi in Via Portanova, l'angolo che dà sulla questura del Palazzo Comunale e poi ancora il 29 gennaio 1944 l'Archiginnasio e poi ancora San Giovanni in Monte e il Teatro del Corso in Via Santo Stefano. Una bomba cade di fronte al Palazzo della Mercanzia, in Piazza della Mercanzia, ma non esplode. Un artificiere tedesco cercando di farla brillare la fa saltare e distrugge metà del Palazzo della Mercanzia. Un'altra bomba cade sul palazzo in Via Caprerie dell'antico panificio Atti, quello che c'è ancora. Sfonda il tetto, sfonda tutti i piani, arriva in cantina, si ferma sui sacchi di farina senza esplodere. Il grosso delle distruzioni quindi riguarda Bologna Nord-Est, obiettivi logistici. Questo spiega anche perché i bombardamenti dal 1943, non soltanto perché non c'erano basi sufficientemente agevoli per raggiungere Bologna, ma perché Bologna diventa importante quando il fronte è in Italia. Allora Bologna è lo snodo attraverso il quale i tedeschi riforniscono di corrente elettrica, di uomini, di armi, di mezzi, di vettovaglie, le proprie truppe che fronteggiano l'avanzata alleata nel sud Italia. Prima sarebbe stato assolutamente inutile. Le incursioni su Bologna sono molte, una novantina, quelle importanti, e tra queste ve ne sono alcune di straordinaria intensità, ma appunto non sono orientate a colpire la popolazione. Questo spiega perché Bologna, diversamente da altre città coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale, ha un numero di morti davvero piccolo rispetto ai numeri dei bombardamenti sulla Germania, ad esempio. E di questi 2.500 morti, 1.000 si hanno in un solo bombardamento, in un'unica incursione. Si tratta del 25 settembre 1943, quando semplicemente gli allarmi non suonano. La popolazione non si rifugia da nessuna parte. È un sabato mattina, di sole, tutta Bologna è per strada e arriva una grande incursione. Chi riesce si rifugia nelle apposite strutture per ricoverarsi in caso di incursione aerea, ma questo non è sufficiente. Tra l'altro il sistema dei rifugi è un sistema che serve contro i crolli, contro le schegge e contro gli incendi, ma non serve assolutamente nel caso che la bomba esploda sul posto. E così accade che un rifugio è colpito da una bomba e soltanto in quel punto muoiono oltre 100 persone che vi sono rifugiate. Perché quel giorno non hanno suonato gli allarmi, 25 settembre 1943? Probabilmente perché siamo nella fase del passaggio. L'8 settembre si è dissolto lo Stato, viene nell'Italia occupata dai tedeschi sostituito dalla Repubblica Sociale italiana, lo Stato neofascista che collabora con l'occupante tedesco e tuttavia non si è ancora sufficientemente organizzato. Forse è questa la ragione per la quale il 25 settembre non suonano gli allarmi. La Repubblica Sociale ha i suoi inizi. Negli altri casi la popolazione riesce a rifugiarsi nei rifugi, negli altri casi la precisione dei bombardamenti è forse maggiore. Certo è che le cifre di Bologna sono queste. Ciò non toglie la gravità del coinvolgimento in guerra naturalmente. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il 45% degli alloggi di Bologna saranno distrutti o lesionati, comunque inagibili. Si tratta di evidentemente un danno molto molto importante. Tutto questo vale tra il 24 luglio 1943 e l'aprile 1945. Nei giorni dello sfondamento finale che porta alla liberazione di Bologna e del nord Italia invece i bombardamenti saranno di tipo diverso. Saranno bombardamenti intensissimi su Casalecchio per potersi aprire la via scendendo dalla Valle del Reno da parte della Quinta Armata statunitense. Saranno molto intensi dappertutto e saranno bombardamenti svolti da aviazioni diverse, non soltanto quelle statunitense.